Beatrice Perez, Head of Sales Italia-Spain di Samsung Guts. Come si prospetta il panorama televisivo nel 2023 dal tuo punto di vista? Grazie a tutti i risultati sono i risultati che hanno cresciuto più, in quanto 5 punti da S-Bot in termini di share di view, e questo è un trend che credo che sarà continuato, non solo perché alla fine i servizi tende a avere 2, 3, 4, maximi appare, come appare, per il risultato e anche per altri risultati. Ma questo è un risultato da S-Bot, ma l'altro, e l'importante, è che le platform abot, soprattutto i canali fast-channel, hanno davvero avvolto negli ultimi anni e ci sono molti più e molto migliori ora, quindi questo è uno dei trend principali che stiamo guardando questo anno. In questo scenario in evoluzione, quali sono quindi le principali sfide per gli inserzionisti? Penso che l'importante principale del pubblico, almeno se parlassi con loro, è sempre di riuscire a tutti che è rilevante con un budget limitato, perché il budget, per la definizione, è sempre limitato, e credo che questo ha diventato ancora più difficile negli ultimi anni, con un pubblico fragmente. Il pubblico ha sempre stato un grande media per gli inserzionisti, solo con una campagna di pubblico che potrebbero riuscire la maggioranza dei consumatori, soprattutto per le brand di mass markete. E oggi, si facevano il challenge di trovare nuovi pubblici pubblici, dove sono, e noi sappiamo che, per esempio, in Italia, 40% dei tivi pubblici non sono ancora guardati tradizionali. Quindi, credo che per gli inserzionisti, cercare di mantenere tivi come la media ha sempre fatto, è un'importante challenge, e questo è quello che Avot, CTV, e soprattutto, le fast channels, è una grande fixazione per loro, per recuperare il rischio che hanno perduto in tradizionali tivi. Grazie!